A me mi fanno fare una vita da cane, ma anche i cani sono trattati come sono trattato io in carcere. Io avevo 17 mesi, 17 mesi, isolato da tutti e da tutto. Ogni tanto mi si attacca una televisione e poi mi si sta 7 mesi, 8 mesi perché mi devo pendire. Io non ho niente da pendire, è inutile che mi trattano così. Io non ho niente da pendire. Se avessi cose da pendire, me ne penderei. Il pendito non l'ho fatto perché non ho niente da pendire.